La quarta commissione consigliare permanente presieduta dal consigliere comunale Michele Doro si è occupata nelle ultime settimane della questione relativa alle tariffe idriche per le attività industriali del Comune Nisseno e lo ha fatto invitando i rappresentanti degli enti interessati e persino l'assessorato regionale a partecipare anche se sempre in videoconferenza alla seduta della commissione per un'audizione. Nelle scorse settimane le attività industriali Nisseno ubicate in Contrata a Calderaro hanno ricevuto le fatture relative alla fornitura di acqua per l'anno 2020. Queste fatture hanno importi elevatissimi anche con un prezzo al metro cubo superiore di 10 volte quello praticato in altre zone della Sicilia. A queste condizioni le imprese non sono competitive e hanno minacciato di chiudere i battenti e trasferirsi altrove lasciando la nostra città. È un lusso che naturalmente non ci possiamo permettere e come quarta commissione consigliare permanente risorse e sviluppo economico da me preceduta abbiamo pensato di mettere a confronto gli enti istituzionali interessati a questa vicenda per poter addivenire a una soluzione. Abbiamo invitato quindi i relativi responsabili e abbiamo potuto ascoltare i pareri e i punti di vista dell'IRSAT provinciale e regionale che ha emesso le fatture di Caltacqua che dà l'acqua ad IRSAT, dei commissari liquidatori del Consorzio ASI, del Comune di Caltanissetta e soprattutto dell'ATI. Abbiamo però appreso che c'è un procedimento legale in corso, le versioni sono differenti e contrastanti per cui l'ATI ha ritenuto opportuno convocare per la prossima settimana un tavolo tecnico con tutti gli attori da noi auditi e in più i due assessorati regionali interessati alla vicenda, l'assessorato energia, acqua e rifiuti nel nome della professoressa Baglieri e l'assessorato alle attività produttive del dottore Turano. Noi siamo lieti di aver fornito un piccolo contributo e attendiamo speranzosi la risoluzione della vicenda.